Allora io ho effettuato tramite i miei portavoci all'Ars un accesso agli atti in regione siciliana che ho ricevuto proprio ieri. Da questo accesso agli atti ho scoperto che Scicli è primo in classifica però una classifica negativa perché ad oggi, ad oggi o perlomeno a fine aprile perché i dati si rivolgono nel primo quadrimestre del 2019, abbiamo conferito ad Alcamo 1.500 tonnellate di rifiuti indifferenziati. In questa graduatoria dietro di noi si trova Santa Croce con 199 tonnellate. Oltre a queste 1.500 tonnellate ci sono le 12,3 tonnellate al giorno che noi conferiamo a Cava dei Modicani. Allora noi vogliamo ben comprendere quanto verrà a costare questo servizio.